Cari concittadine, cari concittadini, il 7 marzo voteremo sulla legge federale sui servizi di identificazione elettronica, in breve la legge sul IE. Si voterà perché numerosi partiti e associazioni hanno lanciato un referendum. Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare sì. Per la maggior parte di noi, internet fa parte della nostra vita quotidiana. Ordiniamo merce, acquistiamo biglietti ferroviari o compiliamo la dichiarazione delle imposte online. Finora, però, nessuna delle procedure di identificazione che utilizziamo è riconosciuta dallo Stato. Con la legge sull'IE questo cambierà. La nuova legge, infatti, prevede un'identità elettronica riconosciuta dalla Confederazione per navigare in internet, l'IE. Essa permetterà agli utenti di identificarsi facilmente e in modo sicuro nello spazio digitale. I ruoli sono chiaramente definiti. La Confederazione verifica l'identità della persona che chiede l'IE. Quest'ultima viene poi rilasciata da un fornitore privato. I fornitori di identità possono essere imprese private, ma anche cantoni o comuni. Per garantire la sicurezza del sistema, la Confederazione esercita il controllo su questi fornitori. Particolarmente importante è la protezione dei dati, che è disciplinata in modo molto severo nella nuova legge. I dati personali possono infatti essere comunicati solo con il consenso esplicito del titolare dell'IE e vengono comunicati solo i dati strettamente necessari. È importante sapere che l'IE non è obbligatoria. Sarà possibile fare acquisti in rete anche senza l'identità elettronica. Cari concittadine, cari concittadini, con l'identità elettronica riconosciuta dallo Stato, molte operazioni in Internet diventeranno più semplici e più sicure. Il Consiglio federale, il Parlamento e la maggioranza dei cantoni vi raccomandano quindi di accettare la legge. Grazie.